Ciao Danilo, la sto facendo a tutti questa domanda perché non era semplice oggi, c'era il rischio di sottovalutare un impegno del genere però diciamo che fin dai primi minuti si è capito che questo rischio era soltanto ipotetico Come diciamo sempre, le cose semplici sono le cose più difficili All'apparenza poteva sembrare una partita semplice ma noi l'abbiamo messa sotto il piano che volevamo abbiamo giocato a ritmi che volevamo noi, abbiamo fatto un gran possesso palle potevamo chiudere la partita già nei primi 20 minuti, 25 e quindi abbiamo indirizzato la partita come volevamo noi Nambro, come stai vivendo questo momento? Oggi non è diciamo alla vigilia tra gli ipotetici titolari invece l'abbiamo visto subito entrare alla grande in campo, ha interpretato benissimo tra l'altro una partita che magari per te poteva avere anche un pizzico di sentimento in mezzo perché tu sei cresciuto proprio qui a Salerno Sì, sono cresciuto qui a Salerno, ho dei bellissimi ricordi con la piazza e ci sono ancora alcuni dottori e fisioterapisti che avevo io quando ero ragazzino quindi li ho salutati con molto piacere però poi quando si scende in campo si lotta per la maglia che si indossa Danilo, ti chiedo anche un pensiero su Christian Rexham perché oggi c'è stata la recessione del contratto e comunque un giocatore che ha lasciato il segno nella storia dell'Inter ha lasciato il segno sotto il profilo sportivo ma soprattutto sotto il profilo umano perché noi di Christian abbiamo un grande ricordo ci siamo salutati sulle nostre chat e lo aspettiamo a San Siro per un grande saluto una domanda da studio ma velocissimi che bisogna andare via Ciao Dani, volevo chiederti velocemente anche per te da difensore quanto è bello giocare in questo momento in questa Inter con questo gioco abbiamo visto anche te sganciarti tante volte oggi in avanti inserirti, arrivare alla conclusione, sfigurare il gol è un piacere in questo momento giocare questo tipo di calcio Sì, è un piacere Marco, è un piacere perché è un calcio organizzato, offensivo ma organizzato se va un terzo si ferma un centrocampista, se va un centrocampista si ferma Brozvic c'è sempre un appoggio, è un gioco di movimento, di spazio, di velocità di una giocata però sempre con cognizione di causa, facciamo un pressing in avanti è molto bello, poi è sempre più bello quando si vince quindi adesso stiamo vincendo e quindi è molto più bello Grazie, grazie mille Danilo Ciao ragazzi Ormai non ti fermi più, che cosa sta succedendo? Denzel, tu hai un ruolo e tu stai giocando molto bene mi racconta questo momento Sì, credo che abbiamo giocato bene come squadra vi vedi quello che vogliamo tutti stavano molto bene, molti movimenti senza il ball molti movimenti con il ball e sì, è stato un gioco molto bene di nostra parte Denzel dice che la squadra ha giocato benissimo sia con la palla che senza palla una partita fantastica sia a livello personale che appunto come team oggi poteva esserci anche il rischio di sottovalutare l'impegno invece siete stati subito concentrati fin dall'inizio questo è stato un gioco difficile per l'Inter ma non hai capito i tuoi rivali e hai giocato con il real focus proprio dal start Sì, conosciamo prima che si può succedere che non hai capito, ma siamo un squadro molto esperienzo molti giocatori esperienzo che seguono il focus e credo che il resto seguono l'esame degli giocatori esperienzo Denzel dice che effettivamente c'era il rischio di sottovalutare questo impegno però la squadra è abbastanza esperta può contare sui giocatori che hanno una grande esperienza e questi giocatori hanno poi trascinato gli altri nel interpretare bene questa partita dove può arrivare questa squadra? C'è qualcosa in cui può migliorare? How far can this Inter team go? Where is their room from improvement? Yeah, I think we can grow as a team I think we have a big future ahead if you see we play very good we score a lot of goals I think, yeah also sometimes in the rest defense we lose a little bit of our control but that's because we have the ball so much and I think we will grow as a team as well Per Denzel comunque si può sempre migliorare è vero che la squadra sta facendo molto bene a volte in difesa si concede un po' troppo però è comunque parte di un atteggiamento di squadra che al momento funziona alla grande ma la sintesi che comunque si può migliorare Grazie mille Denzel, alla prossima